Sono stata tutta la mattina a fare questi cosi, non sono bellissimi, cioè ma mi sono impegnata un sacco, guardate, adesso vi li presento Questo è il più inquietante di tutti, si chiama Fabrizio, lei è Cristina la lumachina, lui è bellissimo, l'ho chiamato Tris perché ha tre occhi Invece lui è Franco il granchio, adesso però li smasciamo tutti insieme Iniziamo unendo Cristina e Tris che diventeranno un tutt'uno, quindi via Nooo, ciao Cris Però secondo me il rosa e il blu stanno bene insieme, la loro tragica fine, questo è il colore che è uscito, praticamente il rosa è stato assorbito E adesso smasciamo loro due, pronti? Via Oddio amici, è stato bello, è stato bello Nooo, guardate che bei colori Infatti è uscito un bellissimo color pesca, seguitemi perché ne voglio creare altri